Lo dici a te stesso, è dentro di te che hai già preso la decisione. Todaro veniva sbeffeggiato dai vertici di Betason, da Deniz, che era il comandante in capo che coordinava tutte le operazioni subacue nell'Atlantico. Todaro è stato insegnato della medaglia d'ora valore militare ed altre medaglie. Deniz è stato condannato a Norberga, quindi quello che questo uomo faceva è qualcosa che è stato consegnato alla storia. Quindi noi stiamo celebrando gli uomini che sono stati capaci di ricordarsi quanto è importante un gesto compiuto oggi, perché quello stesso gesto verrà aperto, vivisezionato, analizzato da tutti gli uomini e le donne che verranno domani.